in questo nuovo video faremo una cosa una cosa bella una cosa impossibile da credere non lo so sapore finiamo una volta titolo se posso fare possiamo fare una bassa sotto l'acqua bella una bassa sotto l'acqua come si sta? no come avevo detto nel gioco ho fatto quello ho fatto l'acqua perché lo so da la tua non è bello c'è bello anche la prossima anche se vorrei però non posso mi metterai tutti gli amanti è bello è grande la torre mi piace anche ma lo so finire così non so cosa fare finiamo la torre finiamo la torre mi basta solo la torre mi basta solo la torre che mi basta dai non metti i miei blocchi tutti storti oggi mi risposto che la forza io dobbiamo dopo dopo nell'altro episodio vado in miniera ve lo dico di già mi lascio come portanto se vi sarà ok potremmo iniziare solegno 59 vuol dire no 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 stiamo incisutando anche una frappina ok avrò messo quello che è pronto sbagliato ci serve è vero non farò ancora qualcosa dal pollo perché mi ero dimenticato che c'è un pollo da 7 episodi nel pollo 7 episodi sono 5 ore al giorno è che c'è la testa di Minecraft eh se hai visto l'altro video andate a vedere come si fanno i coloni su Minecraft e lo hai visto ok se hai visto quando vuoi metterle mio libro così perché non sono più a storle no state di farmi lo ho fatto di copate non dico niente ma ci serve e mi dice adesso la traffa ok 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 facciamo di lacrassi in te perché mi sembra di giusto le slab le slab il ronale la farm di pesca 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 importante la farm di pesca la farm di pesca la farm di pesca 3 la sola vista è veramente anche l'asso se si vuole mettere le scale la vattene 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 vabbè non vai ci dobbiamo passare un minuto mettete le scale che è no non sapevamo se avrete mai camminato non so facciamolo veramente sto cercando perché il video è un po' durare tanto non è molto difficile quello ma non mi interessa no raga veramente questo faccio dai qua è già fatto qua è già fatto non è finito è aspettate non c'è mia mamma non so lì non so lì non so non so basta è finito tutto è finito è finito non ci sto vedo se il video si è piaciuto iscrivete la seconda e ci vediamo alla prossima volta 1 2 3 ciao 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 Grazie.